E' un menu di domenica, eh? E' vaaaaaai! Che rio ma webel sa... Pausa anche Zegnatti con... Ok. Ha messo Reinhard, ma... Ok, a poco dei sono il flanker, o tre sarò di Genji. Me lo sigo io. Eh, allora, ehm... Anche sopra lo bene. Lo posso mettere a... Potrò mettere a... Potrò mettere a... Ah, se vuoi lo rendi a vedere. Mi dico, basta che... Basta che io, sì. Prendo io un altro flanker e... ... ... ... ... ... Ah, così non abbiamo il DPS, per l'aspetto. No, 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 che cambia, cambia. Metti... soldato. Soldato. no se il mostro 4 bravissima c'ho la pensile di fara già in fronte c'è che facciamo che la fara? è un pocket mercy? dov'è? col del top all'orb l'ho ferito attenzione mostro attenzione che c'è quel cazzo di zeniata l'ho ferito occhio a me fara fara l'orb sono morto cazzo cazzo soldier one shot è però vissuto bastardo sto arrivando un moment non so dove si è andando fara dietro fara dietro ci fa il culo eeeh uccidere fara non si ok diva l'orb io sto curando non vedo nulla oh cazzo troppi scudi del cazzo qualcuno ha l'orb lucio diva piccola quella mia è zeniata zeniata l'orb ha dimostrato l'orb bellissimo pin fara l'orb sono senza vita ti metto la palla ma cosa ma cosa come sei morto non lo so neanche diciamo ma ci erano il razzo in faccia io so riso zaria l'orb no chi è zaria si one shotissima ok voluti dov'è quella fara che cazzo sta succedendo ok viva che cazzo è viva per la via rodog dove vengono che cazzo rodog rodog delle sue grandi avventure sto rogo eh sì va troppo cazzo duro troppo ragazzi il suo supporto quanto mi manca voi per la partita abbiamo appena iniziata ah ok ho il boost ok dalla cosa ma no no non ce l'ho la ultimate fuggi fuggi fai con le parliamo dopo il piano finish ok ecolo ecolo è sopra attenzione a fara attenzione a fara è sceso pinna 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 fare lì li teniamo occupati cazzo eh chi cazzo l'aveva vista farà eh eh se ne può cambiare i due appena ricarica incendiamo viva shot sono morto sono morto non ce l'ho fatta a mettermi in terra questo rodo l'ho usato con la porcata con i pomponi sono morto c'ho provato un po' per scudare cazzo eh attenzione top eh stiamo andando triplo tank però mi sa che la prende luce per aiutare ancora i piccoli cure eh eh no ero one shot oh eh proviamo eh si nel senso prendo luce dopo però dovete aver uscito a fare troppe cose utili questo lo dopo non serve un cazzo ho tradotto però se non voglio di kill giusto è morta quella fare è morta non so per morire riusciamo allora no è viva e vivissima servono pure eh eh non gruppiamo bene ragazzi potremmo vedere due lavori eh cazzo ma ti hanno sciolto no 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 vedo non ditevi cosa devo prendere perchè Zenyatta secondo me serve mmm mi lascia Zenyatta dai ho il boost tu serve serve vuoi di boostare roadhog e fincino il boost eh sì ma se mettere il boost adesso me lo mangiano arriva l'orb il boost allora c'ho non regge sto scusa bello orca 3 aiutate non c'ho l'ulti non c'ho l'ulti nooo eh non capisco un cazzo fara sempre fara raga sempre fara si ma infatti ma bisogna cambiare formazione no formazione va bene graffina abbiamo soldato e Zenyatta per fara non così bravo lo toke ehm sempre si lo sai brand e lo sai giocare eeeh io no quella fare è bravo facciamo una poca che fa cambio e prendi un un altro hit scanner beppe sei tu tu lo che va ho quasi ti atto giù la fare cazzo ho quasi ti atto giù la fare cazzo ho quasi ti atto giù la fare cazzo beppe torna dai pinna pinna va che sono tutti squishy vai vai che farai il devasto porca troia non hai vita però cazzo ma oh sempre quella affara di merda però e l'avevo quasi ucciso che sto zio fara l'orb counter uccisa tra solo sono carico c'è la zaria dietro questa zaria dove è uscita fammi capire eh no raga non ce la faccio non ce la faccio da solo sei di vita tre di vita tre di vita porca eh no una poca la camion aspetta sta cambiando lo dog sta cambiando lo dog ma fanculo eh si eh ma che cazzo che bello trollare eh bello eh che cambio adesso no no adesso non fa forse è più bravo merda troppo holocausto sono ulti eh sono andato all'opera top andiamo adesso andiamo adesso andiamo adesso andiamo adesso ok eh ma ci vedono parca troia vai o eh no niente dai sono andato sempre top eh vai aiuto con l'ulti nooo un attimo nooo ma figa sto soldato dovrà morire morto questo soldato cosa sta facendo sto hands esattamente oltre è schifo cagare ah mi ce la faccio guardalo no vabbè inutile facciano utilizzare un eroe tipo simmetra un po' facile usare bisogna carriere questo incoglionito vai fate così la simmetra vabbè qua per forza ho messo e la simmetra qui è troppo aperto eh ce la fai vai con l'arco ecco la devi fare la soglia tienimi jankrat lascia alla jankrat il coglione prendo mezzo messi no se vede danno no no se prendi tieni i soldi no no devi uscire quella fara no lasciamo così apocra renato e mostro tene soldier sennò puoi usare poca soldi la sosa eh non troppo ma perchè tu che vorresti utilizzare ah non ti voglio renato però niente niente vabbè in realtà penso yes abbastanza capace si 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 non penso che voglio usare il dps eh ridi un coglione di un jankrat mamma mia che imbarazzo stranamente in quelli che non sono giocare app non lo anzo che strano anche prima ho senti l'odore che userà anzo che imbarazzo come è schiva di non piccare anzo anche se va male la partita no gianca ti va bene qui se non fai il coglione apocra apocra dolcemente dove sei tu se il payload arriva lì noi andiamo nell'altra positioning tu vieni qua sopra corriamo nelle scale che ci sono qua dietro ma ci buttiamo da qui eh no ci andiamo dalle scale no no le scalette ci sono no c'è le scalette gianca tu non sei un coglione sento devi fare già sento fara che sta volando fara l'orb mi ha fatto cadere sono tutti sparsi si andiamo andiamo già andiamo già giù ma io cambiamo posizione gianca per favore non essere un coglione c'è un soldato è salito bello gianca torna cazzo soldato nella finestrella no diva nella finestrella diva lobe anche soldier anche soldier diva e soldato ricarico gianca dov'è cosa cazzo c'è diva lì lo scudo è giù il tizio se farà dietro farà l'orb buono giancato io ti vengo curato del nabbo apocrazia k uccisa togli il top all'orb vado a fare me lo aspetto soldi il top partendo stasparando sento odore di flanker che passano da dietro controllo io farò fare ok non scherziamo non scherziamo mostro vabbè cazzo uccidendo farà dov'è quel gianca del cazzo farà di c'è soldi farà sopra sopra c'è questo non sono tornato torna arriva la ruota dove la ruota farà dietro farà dietro farà dietro mi è venuta anche diva e anche soldi sono tutti detto attenti farà l'orb non c'ho l'ulti devo usarla va bene è finito il caricatore è fatto lo stesso sono morto io ho 90 di vita uccisa ma però qui no mi ha ucciso mi ha ucciso dica piccola viva l'orb ok apocra siamo da soli non c'è cosa vivi porca lo sprecato è malissimo potrei di non fare niente però non lo so porco aia in questo gioco saba velo neff sono sicuro che cazzo porco morta grazie lo stesso pepe l'ho visto addio ok grazie siete dei cazzo di eroi ho rifatto quella cosa che mi sento moltissimo attenzione il monzillo magico che la buce arriva arrivo arrivo a parte corcosa ne fa cosa c'è l'ultimo per quello di valore vaffan cura ma incogliano non c'è che uscite i soldi e mi ha ucciso a fara dietro e dietro soldi è scesa sotto controllo dove farlo e farà 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 qua sopra è un frattino magico anche adesso o gesù non so come ho fatto signor ragazzi un po di un po di fantascienza un culo culo che nef dimmi che sei tu che hai luthi 80 ok vabbè appena c'è dimmelo perché io non ce l'ho farà non so che all'orbe no no eh vabbè farà guance a tutti i cani stai con noi non c'è bisogno ci metto l'orbe e ce la facciamo stava saluti a destra farà mi sta uccidendo ma non c'era lo scudo cazzo non c'è non mi ha dato vai farà allora one shot farà dove farà non farà studiate un perlumento per non morirmi flescappa io sto curando ok grande io contendo ma cosa già c'è una volta dalla vuota porco cazzo l'epito lasciate la palla fa fa culo si ma io sopravvivo sopravvivo parato pallorb mostro di aiutare di sicuro e aspetto che sono senza video dove sei la davanti farà arrivano diva voluti ragazzi e tranquilli facciamo casini non lo vedo parla top servono cure ucciso non è sognata no ma poco la devo tenermela per il super troiai dai che ha lanciato l'uomo cazzo di jacra figa se la fai solo quella poi cazzo mostro ti copro a petto i mondi minuti cacchio aiutare con una merda ma carriata di me da giù coppio mamma mia mica tutto avere un piercing nel co con i pesi proprio cazzo mamma mia che palle non ho visto una rotobomba che non sia stata distrutta una signora trascendenza comunque la super l'ho tirata perché diva era scoppiato il mac cazzo nata così morto non poteva dire la scuola cosa ha fatto con sicurezza perché la play of the game ma non ci sono neanche che imbarazzo